Anche quest'anno a Barletta si è tenuta la Befana in Caritas con le forze dell'ordine. Guardia di finanza, polizia e carabinieri hanno incontrato le famiglie e i loro bambini per un momento di gioia. Un momento atteso dai bambini alla ripresa delle elezioni, racconta il direttore della Caritas Lorenzo Chieppa. Ormai siamo al quarto anno, ricordiamo anche che in Caritas viene svolto dalle suore di Santa Teresa il doposcuola per ben 35 bambini di varie nazionalità. Il servizio. Quarto anno per questa iniziativa, ossia la Befana in Caritas con le forze dell'ordine. Un bel gesto di solidarietà? Sì, siamo ormai alla quarta edizione della Befana in Caritas, fortemente voluta dai rappresentanti delle forze dell'ordine qui a Barletta. Un segno di vicinanza ai nostri ospiti, ma soprattutto un segno di vicinanza alle nostre famiglie. Quello che distribuiremo oggi non sono solamente dolci, ma sono soprattutto giocattoli, soprattutto anche giocattoli che hanno una nuova vita, perché spesso vengono lasciati presso le nostre strutture, vengono ovviamente ricondizionati dai nostri volontari, hanno quindi una nuova vita e ritornano nelle mani dei nostri bambini. Che cosa vede negli occhi di queste persone quando ricevono questi doni e anche dei bambini? Beh, sicuramente meraviglia, perché ricevere un dono è sempre una cosa bella che ti riempie. Tutti noi siamo stati bambini e tutti noi quando abbiamo ricevuto un dono, soprattutto un giocattolo, gli occhi brillano, quindi brillano i loro occhi, ma soprattutto risplende il nostro cuore. Grazie a tutti.